ci mancherebbe sono 120 kg sono 120 kg sono 4 voltari anche a V2 eh bravo dai, vai senza un attimo vai senza un attimo hai ragione ascolta, due prosecchi di facciaio allora, vai, che sto letta loro due lamentano cioè ma ti senti di scherzare no, non hai giusto prima no, no, non sono 100 kg sono 120 kg la trovo io anche buona adesso le faccio vedete da capo vai, altalo buona, buona 3, 2, 1 1 buona 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 buona